qui vicino a noi c'è un grande appassionato di Lirica, un personaggio che fa onore alla tradizione di questa città è Paolo Zoppi che molto modestamente, molto umilmente, ma incessantemente porta avanti il cralla amici da Lirica Cariparma e a lui potrei chiedere tante cose dell'opera di stasera Allora partiamo con una primissima considerazione dopo questa bella presentazione di Mara, come le sembra? Allora, sono tra due bellezze, una più bella dell'altra stasera sono soddisfatto, l'opera sta andando bene, la conosco abbastanza bene perché non vorrei tradire la mia età ma tanto non ci tengo ho sentito quella del 68 e l'ho sentita molto bene perché facevo la comparsa e quindi l'avevo digerita e metabolizzata quindi ho ritrovato alcune parti ben conosciute un cast direi molto molto bravo, Aaronica in splendida forma per cui direi che sta andando tutto molto bene Siamo partiti bene, ok, quindi ci ritroveremo più avanti per i commenti però sicuramente un buon inizio Buon lavoro Mara, che allora andrai al giornale appunto perché domani saranno pubblicate due pagine importanti grazie anche a Paolo per la domanda